Buonasera a tutti, eccoci qui con il nostro consueto video serale. Allora, questa sera voglio parlarvi di un fumetto che probabilmente il più, se non la totalità di voi e di noi, perché mi ci metto anch'io, conosce. Si chiama Pachito o Pacito, non so come si pronunci. Questo è un fumetto a strisce pubblicato nel 1950, vado anzi a leggere le informazioni proprio da guida del fumetto italiano perché ci sono un po' di cose da dire e non sarei in grado di ripeterle. È un fumetto edito dalla casa editrice edizione Juventus di Milano, in 12 numeri usciti nel 1950 dal 9 aprile appunto del 1950 al 24 giugno del 1950. Quindi sono usciti praticamente in tre mesi circa 12 albi, quindi praticamente 4 al mese, quindi una settimana in pratica. Il direttore responsabile era Gino Casarotti e poi i disegni, adesso dei disegni ne parleremo, nello specifico è la storia. C'è da dire che è un fumetto di avventura tipicamente anni 50, è un formato a strisce, infatti come sono venuto in possesso di questo albo che per la cronaca è una ristampa. Semplicemente un memico l'ha trovato per strada, me l'ha portato a casa e ho scoperto essere una ristampa anastatica del numero 11, quindi di questi 12 albi, quindi questo è il penultimo, stampato per lo strip club di Bologna che è una compagnia amatoriale di fumetti e che dovrebbe essere forse anche degli anni 70 questa ristampa, quindi comunque vecchiotta. È un formato a strisce come poteva essere Tex più o meno, ha 32 pagine come lo stesso Tex e volevo anche farvi vedere quest'albo oltre a parlare un attimino anche per mostrare come più o meno poteva essere un fumetto a strisce, perché questo è uscito quando Tex esisteva da circa un anno e mezzo e Topolino non anno, Topolino libretto. Quindi se andavi in edicola nel 1950 trovavi Tex a strisce o trovavi diciamo altre pubblicazioni come poteva essere questo Pachito, discorso diverso del Topolino giornale, il Topolino libretto scusate. Quindi aveva 32 pagine cui avevamo due o massimo tre tavole a pagina ed era questo formato a strisce prevedeva questa storia che continuava in maniera pressoché diciamo continua. Qui c'è questo riassunto di cosa è avvenuto negli albi precedenti e poi alla fine delle 32 pagine c'è un continua che poi andrà a concludersi nell'albo successivo che sarà l'ultimo. Altre piccole curiosità da dire prima di parlare dell'albo. Allora innanzitutto chi è questo Pachito o Pacito? Anche qui leggo testualmente. Fumetto avventuroso che narra le avventure il giovane Pachito Garwin figlio di un capitano di Goletta, quindi questo è Pachito, naufragato insieme a degli amici su un'isola popolata selvaggi poco socievoli. Tessi di Melfi Bongrani e qui si vede e disegni di Giuseppe Perego che sappiamo benissimo chi era. Nel 1952 si ordinava sul Topolino come copertinista e come disegnatore e sarà uno dei più importanti autori del Topolino libretto della prima ora. Anche criticato a volte per i disegni un po' particolari ma ne abbiamo parlato in altra serie. La serie, quindi Pachito, inizia sul numero 33 del 2 aprile 1950 della serie 2 di Dixie Scott edizione Juventus nelle copertine interne racconti di Renzo Barbieri perché vi è oltre al fumetto in sé un altro racconto, in questo caso si chiama Union Pacific, che continua nella seconda e nella terza di copertina. Per la cronaca, a proposito di Renzo Barbieri, è uno sceneggiatore famoso, scrittore sceneggiatore, famoso soprattutto per i fumetti erotici. Infatti lavorò negli anni Sessanta e negli anni Settanta, nel periodo in cui apparivano Diabolic, Criminal, Satanic, si andrà a inserire all'interno di quell'ambito quando apparvero albi come Iacula, Lucrezia, di cui abbiamo parlato tra l'altro nella live con Stefano, e poi Barbieri tra l'altro ha permesso di realizzare capolavori insieme ad altri importanti autori come Magnus, Tacconi e Frollo. Qua sto leggendo operisseguamente da Wikipedia, lo ammetto, però insomma mi serviva per dare qualche informazione in più. Quindi diciamo che questo fumetto, quindi questo Pachito, che per la cronaca ho anche letto, riserva numerose sorprese, a cominciare appunto da questo formato a strisce, a continuare con la presenza dei disegni di Perego in questa storia interna di Barbieri. Abbiamo detto un po', insomma, leggendo la trama, che questo Pachito è il figlio di questo capitano Nicoletta che si trova in quest'isola, abitata da questi abitanti particolari, o anche degli esseri mostruosi, come in questo caso, in cui troviamo queste sorte di gorilla giganti. La storia l'ho letta, considerando che è una storia in tante parti, e questa è l'undicesima di 12, che comunque è un genere dei primissimi anni 50, è comunque a carattere avventuroso, perché appunto è ambientato nell'Africa Nera, non è neanche malaccio come racconto. Ovviamente non possiamo pretendere che di metterci la sera mentre siamo nel letto a leggere roba del genere, perché chiaramente si vede che è un'opera vetusta, sotto tanti punti di vista, però riconosco che appunto per la tipologia di opera che è, per il periodo che ha, e appunto per la narrazione dei fatti che vengono raccontati, ossia questa esplorazione dell'Africa Nera, mi aspettavo anche peggio. Però questo mi ha anche permesso di capire un'altra cosa, ossia come Tex, e non perché mi piace il western, ma perché vedo proprio a livello di narrazione come fosse avanti nel periodo, e questo secondo me è uno dei motivi che può spiegare il successo che il nostro Ranger ha avuto rispetto a serie appunto come questa, che se io per puro caso non mi fossi imbattuto in una ristampa trovata nella spazzatura, praticamente, non credo ne avrei mai sentito parlare in vita mia. Niente, stavo pensando se ci fosse qualche altra curiosità da dire, sempre utilizzando Guido al Fumetto italiano, che è un'ottima fonte, si riporta i titoli tutti gli albi, è inutile che ve li ripeta, questo comunque è la tragica notte, è l'undicesimo, uscito il 17 giugno del 50, il primo è uscito il 9 aprile, il 50 la colletta e la morte, e l'ultimo, dopo di questo, il 24 giugno, la schiera selvaggia. Poi addirittura verrà raccolto in un volumetto e ristampato all'interno di altre collane, anche immagino come appendice. E questo è quanto, piccola curiosità di un'opera pressoché sconosciuta ai molti, che però ha permesso di fare sorriro, comunque siamo lì, barbieri e disegni pergo. Questo è quanto, scrivetemi se avete qualcosa da dire e ci vediamo col prossimo video.